Speciale Sanremo 2019, noi per Sanremo Siamo in attesa degli artisti, siamo in attesa degli ospiti, dei cantanti pronti per nuove domande, per nuovi costi e per nuove novità. E a proposito di cose nuove, ricordiamo la pasta bio della famiglia Luizzo e il panificio la maggiore e ricordiamo anche il nuovo forno con la magnifica pucciamase pizza. Dei giorni tuoi più fragili che ci sarò, come una musica, come domenica, il sole è danzuro. Guardate il bellissimo mare di Sanremo, come vedete abbiamo lì in fondo l'Ariston, questo è l'ingresso laterale, diciamo, da dove entrano tutti gli artisti, però la cosa che colpisce di più di questo Sanremo, sapete cos'è? Guardate quel mare che è alle mie spalle, la cosa che colpisce di più è che secondo me quel mare non è mare, non è acqua, ma è la Red Bull, c'è Red Bull ovunque. Cari distributori della Red Bull, avete invaso Sanremo, è vero che mette le ali, è vero che ci vogliono le ali, ma qui ci vorrebbe una bella barchetta, altro che ali. Un appuntamento presentato da Panificio La Maggiore, il pane d'op di Altamura, dal 1880 la tradizione continua, pasta lori, bio lori Puglia, la nostra pasta e la bontà di ogni chicco di grano, nuovo forno Altamura, base pizza e pucce, dalla magica terra di Altamura i migliori prodotti da forno, pasta e gusto, piatti pronti in 90 secondi senza conservanti né coloranti, Autentic Italian Pasta, il consorzio della lenticchia di Altamura IGP.